ciao e bentornati come avrete visto questa notte saremo ospiti della casera val siamo a sella chianzutan sono in compagnia di gabri e cobi il bivacco si trova proprio qui ai piedi del monte verzegnis alle nostre spalle troviamo anche la casera montutta di cui ci sono già andato e vi lascio qui sopra il video dall'ultima avventura purtroppo come avrete visto mi sono rotto il polso ma questa è un'escursione abbastanza semplice quindi andiamo per l'entrata Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua direi che è appena venuta giù una palanga. La palanga è una palanga? La palanga è una palanga. 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 La palanga è una palanga è una palanga. La palanga è una palanga. La palanga è una palanga. La palanga è questa palanga. Sì, in polna. Sì, in forno. Dice il Domi. Non so dove ritorno. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Per finire in bellezza adesso ci mangiamo un buon bullet pork così siamo sicuri che non ci mangiano. Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Gli altri sono ancora dormendo. Approfitto per fare un giro qua sotto i potici pieni di neve. Vediamo cosa c'è. Siamo sommersi dalla nera veramente. Una stalla, una vecchia stalla questa. C'è anche la legnaia qua in fondo. Questa zona sveglia. Buongiorno Domigliani. Buongiorno. 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 Puese in dentro. Di al wanziquino. Sì, che devo metterlo a fare un altro plastico come si non si è raffetto Alla 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 che anche questa avventura vi sia piaciuta iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo alla prossima per un nuovo video ciao ciao ciao